Dal buio alla luce, e questo è il nome dato all'incontro di preghiera organizzato dai giovani ragazzi e ragazze della Commissione Giovani della Forania di Castellabate-Cilento. Il periodo di avvento, unito al difficile periodo che stiamo vivendo a livello globale, ci invita a riflettere sulle situazioni di buio che ognuno di noi e tutti insieme contemporaneamente stiamo attraversando. Dal buio alla luce è l'augurio che vogliamo rivolgere a tutto il mondo per come ci ha ricordato il Papa, risvegliare e attivare la speranza in queste ore in cui tutto sembra naufragare. E questo è il messaggio dei giovani della Forania di Castellabate-Cilento. L'appuntamento è per mercoledì 9 dicembre a partire dalle ore 18 e 30. L'evento verrà trasmesso in diretta streaming dalla Chiesa del Santissimo Salvatore in Torchiara sulle pagine Facebook della Forania della Pastorale della Parrocchia di Santa Maria a Mare e della Parrocchia del Santissimo Salvatore. Nel rispetto delle norme anti-Covid-19 vogliamo vivere, grazie agli innovativi strumenti digitali, un momento di preghiera per rinascere dalla luce e accogliere l'invito del Papa di attivarci per la solidarietà.